Il Chow Chow, noto anche come il cane orsacchiotto, è una razza unica e affascinante. Originario della Cina, questa razza è immediatamente riconoscibile per la sua distintiva criniera da leone e il viso morbido. Sono una razza di taglia media. In termini di peso, il Chow Chow ha un peso tipico. Ciò che davvero distingue il Chow Chow, oltre al suo aspetto, è la sua complessa personalità. È spesso descritto come un cane ostinato e indipendente. Anche se può essere distante con gli estranei, è incredibilmente leale e protettivo nei confronti della sua famiglia. Questa razza è nota per il suo carattere forte, che può rappresentare una sfida per i nuovi proprietari di cani. Un adeguato addestramento e socializzazione sono essenziali affinché il cane diventi un animale domestico ben adattato. Nonostante il suo comportamento piuttosto riservato, il Chow Chow può essere incredibilmente affettuoso con il suo proprietario e spesso forma legami molto forti. Il suo spesso doppio manto richiede una toilettatura regolare per mantenerlo in buone condizioni ed è incline a certi problemi di salute, come la displasia.